Resta la vostra coscienza se volete il cambiamento radicale, basta con le tasse, basta con le IMU, basta così, giriamoci e tutti insieme ci dobbiamo muovere, noi vogliamo la democrazia partecipativa, significa che dovete partecipare, svegliarvi, è un'indecenza pagare il 60% di tasse e subire passivamente questa realtà, oggi vi auguro un buon Natale da parte del Movimento 5 Stelle, nazionale, non da parte mia, io sono un vecchio reddito, io sono solo un vecchio reddito, io voglio fare spazio e i giovani non devono andare via da Torre del Greco e ve lo dice uno che ce n'avano due fuori laureati e vengono qua solo per quella settimana a godersi la propria indole di essere napoletano, dopodiché le ricordano del loro buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Natale, ovunque, buon Natale da parte del Movimento 5 Stelle, la politica è morta.